È incredibile, abbiamo fatto una cosa straordinaria. La campagna di ascolto della buona scuola è stata giudicata dalle istituzioni europee la più grande campagna di ascolto mai fatta a livello continentale. Dunque centinaia di migliaia di persone ci hanno detto la loro, ci hanno insultato, criticato, fatto suggerimenti, qualcuno ha fatto occupazioni, qualcuno ha fatto documenti di proposte alternative, ma non c'è dubbio che per la prima volta la riforma della scuola, anziché farsela in un ufficio i tecnici del ministero o di Palazzo Chisi, la stanno facendo gli italiani e le italiane, la stanno facendo le professoresse, i professori che vedono riconosciuto il loro ruolo, le maestri, i maestri, le ragazze, i ragazzi che si stanno anche animatamente dividendo tra quelli a favore e quelli contro, quelli che fanno proposte, la fanno i presidi, i dirigenti scolastici, adesso si dice così, le famiglie, gli operatori. La riforma della scuola non la fa un politico che passa di lì. La riforma della scuola la fanno gli italiani, questa è la grande novità. E nel farla i contributi che noi abbiamo ricevuto adesso devono entrare nella fase conclusiva. Da qui al 28 febbraio scriveremo i testi, testi di legge, decreto legge, disegno di legge, che presenteremo in Parlamento. Si tratta quindi di entrare nel merito dell'assunzione degli insegnanti, della valutazione, dell'investimento sul merito dell'alternanza scuola-lavoro, dell'investimento su nuove materie, che poi sono le vecchie materie ma da valorizzare di più, arte, cultura, diritto, economia, educazione motoria, inglese, con un investimento sulla conoscenza delle lingue. Ma accanto a questo c'è bisogno soprattutto di prenderci un impegno reciproco. Domani tornate a scuola, non sarà particolarmente piacevole per tanti di voi, ma in realtà nel tornare a scuola prendiamoci, guardandoci negli occhi, l'impegno a considerare la riforma della scuola non una delle tante riforme che il governo sta facendo, ma la riforma fondamentale per restituire dignità, speranza, emozione, bellezza a questo paese. Se riparte la scuola, riparte l'Italia. Noi ci stiamo credendo, ci stiamo lavorando, ci stiamo investendo, mettendoci tanti soldi, che sono i soldi degli italiani, e ci stiamo investendo sapendo che questa riforma non è semplicemente il cambio di qualche regola amministrativa, è l'idea che l'Italia torni ad essere se stessa, investendo nel carità umano, investendo nell'educazione, investendo nella libertà di pensare al futuro e non solo al passato. Grazie per quello che avete fatto fino ad oggi, continuate a lavorare sulla buona scuola, continuate a inviare commenti, proposte e critiche, continuate a seguirci, anche a criticarci ci sarete molto utili, però adesso siamo nella fase 2. Da qui a febbraio si scrivono le norme e sarebbe bello, sarà bello. Io credo sarà anche entusiasmante che questo percorso, iniziato un po' in sordina, che non trova spazio sui giornali, che viene lasciato soltanto agli addetti ai lavori e alla comunicazione, diventi la più grande riforma dal basso mai fatta da un paese europeo. Anche questa è l'Italia, anche questa è la buona scuola.